non l'hai visto signore ma alza il piedino mi sembrava in un contesto giusto bentornati sul canale dei rolling sauro io con la mia prima apparizione un po' imbarazzato il tuo primo unboxing? si il mio primo unboxing oggi portiamo sul canale un gioco vabbè un gioco l'epicità del gioco dai secondo me è il gioco definitivo cooperativo? cooperativo barra competitivo ok cooperativo barra competitivo definitivo secondo me da modena Luca all'ha comprato se l'hai portato a casa e ci delizia con ci siamo scordati cioè la verità abbiamo fatto l'unboxing ma stasera appunto abbiamo registrato non abbiamo portato il gioco quindi adesso no 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 adesso con la magia dell'editing tu metterai una mano a destra prima a sinistra e ecco già un bot come vi dicevo in anticipo c'è già purtroppo l'avvio dell'unboxing avevo l'invito a causa il viaggio di ritorno nel modena mettiamo via la pellicola si sembra proprio un sottomarino wow regolamento signori 51 pagine di regolamento 51 pagine di regolamento manuale tattico c'è un manuale tattico interessante bene wow cartine cartografia grandissima direttore di macchina i ruoli questi sono i ruoli signori questa cos'è sono le plance sono le plance dei ruoli penso non l'ho mai giocato quindi non so non so cosa sia non so cosa sia c'è una mazzo di carte una sacchetta con dentro una matita sembra una matita si sembra una matita addirittura una matita ci metto qua dentro questi penso che siano pezzi per montare l'ubot poi c'è scatola con personaggi e parti da mettere penso sopra la nave c'è lo scotch non mi impazzisco ad aprirlo adesso un altro mazzo di carte sì questi penso che siano i ruoli che si possono interpretare sono 8 ruoli quindi 4 per lato altre plance ah ecco vedi questo è quello che bustine importante fondamentale bustine all'interno delle cose ecco quello che dicevo io che il viaggio purtroppo rovina sono rotte goniometri quindi si un goniometro vero e proprio si un goniometro vero e proprio pedine tasselli per da defustellare come se non ci fosse un domani e poi un altro pezzo sì forse questa è la parte che mancava lì e poi tutte le parti da assemblare del lubot che roba ragazzi che roba vi farò vedere con un altro video quando lo assemblerò quando assemblerò questo sottomarino importante importante veramente tanta componentistica tanta componentistica sono molto contento di questo acquisto eccoci qua dopo l'unboxing e Lu dimmi tu cioè tanta roba esatto io ancora non ho avuto la possibilità di vederlo l'ho visto per la prima volta con voi con queste registrazioni e da viva Modena quindi so che ha una componentistica micidiale si 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 componentistica micidiale con tanti fogli perché giustamente carte nautiche c'è il goniometro un regolamento bello assiccio 52 pagine di regolamento preparatevi a aprire dizionari a rileggere si si spirito di collaborazione elevata per un regolamento così impegnativo ho visto anche imponente come quantità di cose occupa una grande si si molte molte plancine di gioco personali quindi ogni giocatore aveva la sua plancia giocatore qualche tesserina ci sono le carte mazzo di carte per giocare ci sono le miniature le impanature dei giocatori e la splendida nave con il miniature ecco della nave devo dire una cosa secondo me vai io giustamente per un piccolo difetto secondo me giustamente dopo aver acquistato il gioco aver montato tutta la nave io avrei paura a smontarla e a rimontarla ogni volta che lo gioco perché essendo tante a componentistica è a rischio di esattarsi è anche grande è quasi il doppio della scatola parliamo di un pensiero come il mio da collezionista da una persona che ci viene tantissimo a gioco e vuole evitare di rovinarlo e il prezzo e per il tipo di gioco è un gioco da collezione a mio avviso è un gioco che bisogna tenerci non uno ma ben dieci occhi sopra io infatti consiglio per chi dovesse comprarlo di montarla è anche bellissima da vedere è già tutta montata quindi con dietro la scatola esposta su il suo risorso sul tuo Kallax Kallax o qualsiasi cosa simile che avete dove riporre i giochi da tavolo e voglio sapere da te un voto allora che voto dai appena ho aperto il gioco ho guardato tutti quei fogli tutte quelle cose all'inizio gli stavo per dare un voto più basso poi dopo esplorando e scavando con tutte le componentistiche io gli do un bel voto che è un voto ok io da un esterno che non ha vissuto l'unboxing e ha visto solo un fine il gioco mi agreggo volentieri cioè nel senso un 8 secondo me è un voto giusto per questo gioco ripeto io sono stato un po' come si dice non ho preoccupato ma perplesso sì dal prezzo cioè vedi tutto quello ok però ho visto il prezzo che mi ha un attimo mi sono ansia però alla fine merita ambientazione qualità di gioco queste cose che scopriremo insieme sì speriamo di farvi vedere un altro video ti farò affondare su questo gioco andate nella faccia dell'uomo soddisfatto dopo l'unboxing ho dato tutta nel avere la nave lì sottomarino lì bando ai cianci se il video vi è piaciuto fatelo sapere con un like se vi va commentate insultatemi non mi fate sempre voi lo insultate questo giro potete insultare anche lui sì ve lo posso mi vedete già Luca lo avete insultato purtroppo Luca è immune a queste cose non potete e se vi piace tanto il canale condividete e consigliate a tutti gli amici ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao